Ciao ragazzi e ciao ragazzi allora stasera video recensione monoprodotto il prodotto che voglio recensire è il mio fondotinta del periodo è questo fondotinta dell'avril le fondotinte con olio di jojoba bio certificato biologico io ce l'ho nella colorazione porcellana porcellon fondotinta è un prodotto da 30 ml certificato eco cert e qualche altra cosa no allora è un prodotto leggo perché lo sto usando da un po' ho fatto diverse prove come faccio sempre quando provo un fondotinta allora è un prodotto molto leggero di norma cerco di non tenerlo mai in questa posizione ma così sulla mia vanity perché ora lo apro e vi faccio vedere si accumula è molto leggero quindi si accumula prodotto scivola prodotto ecco qua non so se l'avete visto si è sporcato anche tutto qua mi approfitto per farvi vedere il colore allora rispetto al mio incarnato forse porcellana porcellin è un pochino troppo rosa ma non tantissimo il tono chiaro è adatto al mio incarnato mi ci voleva una punta più gialla però non ho stacchi strani tra viso e collo questo è il prodotto ha una copertura molto leggera non è un fondotinta pesante anzi come avete visto è molto liquidoso e diciamo che una scala di copertura da 0 a 100 lui mi fa un 40 super giustica un 40% di copertura io non lo chiamerei tanto fondotinta quanto crema tipo una BB cream leggermente più coprente non è un fondotinta per me il fondotinta anche se è leggero di texture leggera mi deve a meno coprire da solo senza correttori il 60% delle mie discromie lui arriva al 40 però ovviamente correttore eccetera si riesce a uscire di casa in modo decente uniforme benissimo l'incarnato non fa strani scherzi è facile da stendere copre anche un po' le imperfezioni del contorno occhi piccoli brufoletti li riesce a coprire ovviamente se l'imperfezione è un pochino più importante ha delle difficoltà come ogni volta che provo un fondotinta e ci faccio poi la recensione registro delle clip dei vari modi di applicazione con vari strumenti che farò partire a breve già vi dico ora poi ci vediamo dopo le clip che è il mio modo ottimale per stenderlo visto che è così fluido ed è facile da stendere con le mani è come metter su una crema faccio un piccolo puntino qua uno sul naso e sulle guance eventualmente ne sento l'esigenza leggermente nella zona esterna tiro tutto e fisso e sono pronta grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.